Come sempre in apertura il bollettino aggiornato con i dati Covid in Abruzzo odierni sono 190 i nuovi positivi su 4154 tamponi, 296 i guariti oggi rispetto a ieri, purtroppo 7 le persone decedute, la più giovane aveva 46 anni. I nuovi ricoveri in terapia intensiva, ma per tutti i dettagli particolari e gli aggiornamenti ci colleghiamo con la nostra Gigliola Edmondo che è da Bucchianico, che è fuori dalla santuario di San Camillo dell'Ellis, un luogo scelto non a caso, un luogo simbolo per la pandemia. Buonasera Gigliola, perché ti chiedo e a te la linea. Sì Antonella, buonasera. Con Andrea Berardinelli ci troviamo a Bucchianico, la patria di San Camillo dell'Ellis, protettore dei malati e degli operatori della sanità. Ci troviamo all'interno del chiostro del santuario dove domenica prossima, in occasione della Domenica delle Palme, Reteotto seguirà in diretta la messa che sarà celebrata alle ore 10 dall'Arcivescovo della Diocesi di Chietivasto, Bruno Forte. E saranno le telecamere di Reteotto a seguire la Santa Messa, ma ricordo anche che durante tutto il periodo della Quaresima le messe che vengono celebrate all'interno di questo santuario vengono trasmesse in diretta e viste da tutto il mondo. Per quanto riguarda invece i dati sui contagi da Covid-19, in Avruzzo dal report dell'assessorato regionale alla sanità emerge che oggi si registrano 190 nuovi positivi di età compresa tra 1 e 90 anni su 4154 tamponi molecolari e test antigenici eseguiti. I positivi con età inferiore a 19 anni sono 31, di cui 8 in provincia dell'Aquila, 18 in quella di Chieti, 5 in provincia di Teramo e i pazienti deceduti sono 7 di età compresa tra 46 e 94 anni. Del totale odierno due casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati soltanto oggi dalle ASL. 296 le persone guarite rispetto a ieri e il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari a 4,6%. 670 pazienti, meno uno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 89 più 4 rispetto alla giornata di ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 10.309, cioè meno 117 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Questa in estrema sintesi è la situazione contagi in Abruzzo. Antonella, se non hai delle domande io ti restituirei la linea salutando e ringraziando Andrea Berardinelli e i camigliani che ci ospitano, perché come tutti sanno San Camillo dell'Ellis è il fondatore anche dell'Ordine dei Camigliani che svolge missioni e opere in tutto il mondo e al quale in questo periodo di pandemia da Covid-19 si rivolgono in tanti e in molti pregano San Camillo affinché possa salvaguardare la propria salute e soprattutto allontanare prima possibile la pandemia.